Possiamo anche investirli Oh buona quella Raga 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 vi prego Tutti su un quad Glielo sto puntando eh di fronte a me Steph non è una buona idea La vedete? Eccolo Preso L'abbiamo preso in due Dov'è finito? Dov'è? In dietro di me No No l'ho mancato L'ho preso Però mi sono avvisato aiuto Ok L'ho colpito Sono bollato tantissimo ragazzi Sto finendo fuori dalla mappa E lì? Mi vuole uccidere Steph aiuto No È salito sul quad Non ci credo Scusa ma sì Ma dai Ragazzi non l'avete capito Guardate dove sono io Vuole giocare all'autoscontro Perché gonx è lì giù? Perché ho preso una scala Che ha costruito il tipo E mi ha fatto volare tantissimo Ho risolto Via Oh mio Dio No è investito Massi Che maledetto Non ci credo È stato bellissimo Basta Ragazzi stiamo scherzando Che poi alla fine Era uno da solo No c'era anche un altro No E perché non è arrivato in tutto questo casino? Questo stava nella mia casa Massi ne aveva un altro nella sua Vabbè prendete tutti i quad E andiamo via Ciao a tutti ragazzi Sono Gonx e Vidal Benvenuti in questo nuovissimo video Siamo con Steph Fare Ma sì Per una challenge Mol difficile Forse la più difficile Che abbiamo mai tentato Possiamo usare solamente le torrette Non possiamo usare nessun genere di arma Possiamo usare sì Gli oggetti di utilità Come granate Bombe ballerine Medikit Cure Qualsiasi genere di cura E le trappole Rift e portaforte Ovviamente Però come armi possiamo O meglio Come armi da fuoco Possiamo usare solo le torrette Dobbiamo cercare di vincere Vi lascio al video Ragazzi Mi raccomando Guardatelo tutto Torretta subito Oh mio dio Ci sto tirando sopra Ne abbiamo una L'hai trovata? L'hai trovata? Sì sì Lo sapevo che è tomato tempo Era al posto giusto Era al posto giusto Quanti video abbiamo fatto? Tre volte? Quattro volte? Quattro sì E non la trovavamo mai Quattro ma hai trovato neanche una Perché quando ti servono Le cose scompaiono dal gioco Ovviamente Ok dai raga Trovate neanche un'altra E siamo felici Va bene Almeno un'altra Altre due Dai altri due No a me ne basta un'altra E almeno siamo in due Che possono sparare Ed è già qualcosa nella vita È già qualcosa Non è male Gli altri si riparano Dai non sarebbe Sì Va bene Mentre comunque troviamo almeno Trovata Davvero Oh mio dio Ho girato un angolo Ce l'avevamo di fronte Vabbè Raga Tomato tempo È il posto giusto Esatto La maledizione è finita Adesso abbiamo soltanto vincere L'utilizzata È facile La parte più difficile L'abbiamo fatta Ok Peccato che nelle ceste Non si possa trovare Mi fate un favore Se trovate portaforte Portafortress Teneteli tutti Ci facciamo le fortezze Con le terrette Ovvio 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 Io ne ho già uno Un portaforte però Non un fortress Ok Ho trovato anche Scillini finalmente Se ci muoviamo subito Possiamo andare a lottare Altri posti Non so dove andare In sto posto Tipo qua Allora Facciamo così Due vanno a lottare Le fabbriche lì Quelle cose lì Container Non ho mai capito Come chiamarli Due vanno a Wailing Woods Massimo andiamo le due? Così massimizziamo No Il container Ok Quindi andiamo a Wailing A posto Per raggiungerci Potete prendere Il rift che c'è Nel laboratorio Infatti non è il problema Easy easy Speriamo dai 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 Se ne troviamo tipo Altre due Inizia davvero A essere un bel tentativo Dai comunque Due su quattro Non ci si può lamentare Quindi No vabbè Abbiamo fatto quattro Registrazioni con zero Raga Luttando tutta la mappa Quindi Siamo felicissimi No abbiamo Tante belle armi Ma non le posso usare Allora Ok Mi ci sta avvicinando Stando mentre farmando Il più possibile Fere come ce la gestiamo Tu entri nelle case E io faccio Le zone invece Sì dai Ok Dividiamoci così E speriamo bene La prima casetta C'è la sinistra Ok Dai 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 Voglio sentirvi dire Trovato Anche se non l'avete trovata Vai vai Giusto per dirlo Ah ok Trovato allora Vado dritta Alle case Ok Quanto stiamo andando Fuori zona Dai poco Comunque c'è andata Quasi bene Sì Poteva essere Molto molto peggio Ok Ok Senza andare a fare Anche qualche funghetto Che comunque bisogna Pensare anche al futuro E quindi shield Ah Non ho molti materiali Le ceste Inutili Che le apro A meno che non voglio Trovere un po' di granate Shield E quelle cose Eh Voglio fare Ma se in queste scale Ti ho lasciato uno scudino C'è una vending leggendaria Pregate Controlla E sono a whaling Sapete cosa pregare Come materiale Ovviamente legno Anche dentro sta casa Mi sa che è quello Che poi ti porta Il laboratorio Ha 4 teletrasporti Che ti portano Alle 4 case diverse Ah Non ho mai Non sono mai andato Vedere Ah ecco perché ce n'è uno In questa casa L'ha capito Raga 375 E un portafortress Io ci sto seriamente pensando Legno Di che cosa Si Potrebbe aver messo Non è un po' di far comodo Essendo a whaling Si Ci può far vincere il fight Dai lo compro Ah guarda Ho trovato anche un portafort Ok Ne ho già uno io Ok Vedi allora va bene Perfetto 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 Così siamo pieni di cose Continuo a farmare Abbiamo circa 2 minuti Noi qua Vuoi niente? Vuoi niente Ma almeno Shielda queste cose? Io ho 3 shieldoni Buono Nella scala che c'è Non questa Quella parallela Da quella parte Direzione a fare Dai un po' di fortuna Sono lontanissima Tra di noi Non venire in questa Da me No infatti prendo un'ombra E vado in quella là giù Tante fino di ombre Ok Io rimarrò con pochissima legna Tra una cosa e l'altra Però dai Secondo me è worth Ok Allora ho visto una casetta Lì Ok Velozze 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 Ho trovato anche uno shieldone Trovato una scelta Quindi niente Avete finito tutto Lì Sì Qua c'è un'altra vending Ragazzi Legendaria? Non lo so Dovrebbe esserci una vending lì Adesso vado a controllarla Ok Conviene controllarle Sì Che magari Trovassimo le torrette lì Sarma a posto Occhio alla zona che abbiamo poco tempo Sì sì Io voglio Anche quella trappola Può far comodissimo In endgame Ok Corri Dove Dio me ne è finita? E qua in questa zona Cioè non spawna sempre Ma poi quella Quella che ho preso Ah ok ok Perfetto Pensavo Cioè sono quella In questa zona credo Se non sbaglio erano due Provo Adesso non mi ricordo di preciso Che noia Ok Anche fare niente Fare ombre Veloce Sì esco dalla casa Un labirinto Sta casa qui Verso dove volete andare? Beh per ora Entriamo in zona No Vediamo possiamo puntare Le zilinx Magari non è andato Torretta 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 Yes Ottimo Ottimo Dove era? Dentro questa cappannina Che c'è vicino La torre Ottimo Bellissimo Dai siamo 3 di 4 In questo momento Massi si sentiva triste No va bene Cioè cerchiamo di non farle Tutti insieme Perché magari Ah no Quello senza dubbio Ma noi potremmo anche puntare Ad arrivare a endgame Portafortress Torretta E arrivi C'è Grazie Ovvio Ovvio Potrebbe essere il modo Per venire a fare la win Non era possibile Nei fessi Ok vabbè comunque Le zilinx magari un'altra O altre due le troviamo pure Anche in queste casette Bisogna controllare ragazzi È vero Questa è la zona ragazzi Sì sì Ok Ho totalmente mistato le ombre Per come sto correndo Vabbè Ah Abbiamo medikit o band raga Sì ho medikit No Ok Io ho preso delle band Perché mi sono distratta Pensando alle torrette Queste case sono fuori Malate Colpo mia Corrette Non voglio prendere Uno di danno Dai Non arriva più Ok materiali Avete fermato bene 500 40 E 28 Ok Io sono a 600 E ho a 170 170 Una torretta Davvero Fere come esci c'è il medikit Qua sul lato a destra Mi fa ridere che Massi le dice Quasi la depresso Capito come se non fosse nulla Abbiamo un aero drop a sud A modo mi piace Però è abbastanza lontana Lo raggiungiamo in un minuto Ci manderebbe molto out position È quello che mi spaventa Considerando che ne abbiamo quattro Penserei Più a come sviluppare un endgame Sarei indeciso Se provare a utilizzarne uno o due Per fare delle kill Dipende Secondo me dipende Dalla situazione Esatto In cui ci troviamo Esatto Anche secondo me Per ora portiamoceli avanti E farmiamo materiali Le zilinks È È lootata Però la cosa che avrebbe senso È trovare macchinette E farsi il giro Di tutte le dune di sabbia Perché quello è solo loot da terra E quindi è il posto più probabile Dove trovare Sì c'era tantissimo Le zilinks di loot da terra Quindi è perfetto Sì credo sia il posto Con più loot da terra Del gioco Ok E poi farmiamo Tantissimo materiali Possiamo vincerla Solo di materiali Praticamente Io mi sto un attimino Refullando Quindi sono leggermente indietro Sì sì Esatto Infatti sono a 200 di ferro Io di materiali sto facendo schifo Mi devo mettere a farmarne Ok Vabbè tanto se siamo in tre Con molti maz Sì ovvio Poi ma le capata Te ne andiamo a 150 a testa E sei follo anche tu Avvisatemi se trovate carte Quindi dovrei andare a posto Amare un pochettino Invece sto sempre correndo E raga stanno fightando A sud ovest Che vogliamo fare? L'ignoriamo O vogliamo Sì ci proviamo A sparare in mento alla polla No io vorrei ignorarli Se riusciamo E se non riusciamo ad ignorarli Tiro un portaforte Non il portafortress E piazziamo Almeno una torretta Ok va bene Ok Ok Raggiungici Sarebbe bello andare a controllare lì Se ci sono altre torrette a terra Perché secondo me Hanno finito il fight E sono già andati via Però non posso esserne sicuro Quindi mi sa che non rischio Anche perché non ho escape Eh il fatto è che Se adesso Paitiamo Non abbiamo Torrette di riserva Guarda ne avessimo tante Me lo sarei anche tentata Sto fight Tipo magari Qualcuno che ne ha due Allora stanno billando A sud ovest Penso per salire sulla montagna Quella vicina Proco pacifico Sì appena visti Confermo E qua raga Volendo Possiamo farci un botto di mattoni Ok facciamoci i mattoni Tanto se mi sei qua 18 vivi eh Buonissimo Allora Ci sta arrivando un aero troppo vicino Questo qua lo dobbiamo difendere Secondo me qua Bisogna investire una torretta Nel senso Se vengono a rompere Sì Ci sta Io ho 12 granate E due Ballerine Ok Io ho tre granate Io ho tre klinger E tre puzzolini Conks ma lo vogliono oscillare Se vogliamo fare la lista Sì se ce l'hai in più sì 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 Io ho due Dove sei Raga torretta mi sa Serio? Mi stai sì Va bene stiamo trovando un botto Videoconferma Sì Sì torretta Yes Che bello Ok quindi ne abbiamo già Una extra da poter investire Steph ti ho mollato due granate Così ne hai di più Le ho mollate dove hai mollato Tu lo scudo Siamo vicinissime alla zona Quindi poi un pochettino Possiamo luttare Sì e poi ci sono anche rift Sì va benissimo Allora Opla Dai airdrop Daccene un'altra Yes Una o due Contra la massi Una o una Ok perché ne può dare più di una Soprattutto i lama I lama ne possono dare tipo due o tre Io ho preso Uno slurp Ci sono tre scudini E ho mollato palloncini anche Raga siamo a sei torrette È il momento di non aver più paura di nulla No assolutamente no Ma non si può salvare Come nei single player No Però possiamo Prendere venite qua Venite qua Venite qua Ci prendiamo questo rift Saliamo su questa montagna E iniziamo a creare una fortezzina Ok Ok aspetta che arrivo Che dobbiamo fare? Eh qualcosa che Non so perché Ci sono Ci sono Ok Andiamo Andiamo Raga ho 500 di ferro Allora quindi dove stiamo puntando? Questa cosa Questa montagna qua Si parano Non mi parano Dall'altra? Vabbè non ci interessano Non ci interessano Sì a 160 154 Sudeste Adesso non ci vedono ancora Sì sì se vogliono venire Raga per favore Billate i materiali che reggono Beh io non ne ho tantissimi Quindi uso quello che ho Sto facendo proprio Anche con fondamenta Sì sto facendo le fondamenta Anche io qua Allora facciamo così Facciamo così Lo usate di tutti Perché se poi la zona non è qua Sì 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 Infatti non sto ancora Piazzando neanche le torrette Ok ok io comunque Un altro porta fort Non è il massimo però Secondo me lì Dovete tenervi pronti A piazzare una torretta E io mi vado a tirare un porta fort E lo usiamo come base Mi sembriamo un po' troppo lontani Io mi sa che la mia ne investo Tanto ne ho due Ok vai Ok Tu che ne chiudi una va bene Un tipo dentro la città Stanno provando a cechinarmi raga È un casino Ovviamente Steph Sì vabbè ma stanno fettando Tra di loro e rompono me È molto strano E tu mi ti rompono la torretta E siccome è noiosa Giustamente provano a buttarti giù Vediamo dove si chiude la zona E c'è 880 di vita Uno Bravissimo Ma vuoi che la piazzai anch'io E ti aiuto Si sa che conviene Vai 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 No Massi Noi non le spettiamo Massi qua sopra 11 vivi eh Forza Massi Noi siamo dentro la zona raga Ragazzi Cerchiamo di rinforzare i granati 40 di scilla uno Non dicevo se posizionarmi pure io Sarebbe ottimo Cavolo Quante ne abbiamo ancora? Quante ne hai? Quattro in totale Ne avete tutti una Ma mi sa che mi posiziono Vai invietila Nel caso non puoi fare il endgame 40 di vita uno Vabbè Massi ne ha buttato giù uno Uno giù Grandissimi Fai nel kill atto uno Boh raga la piazzo anch'io Eh perché adesso è il endgame raga Uno morto Uno morto È bellissima sta roba Continiamo Morta con le sorrette Vai così ragazzi vai così Sto sfondando qualsiasi cosa mi trovo davanti Devo Ok li vedo li vedo sulla destra Continua Massi Sfondo anch'io Sfondi proprio mentre Si sfrega Uno giù 40 Un tizio Un tizio Un tizio l'altro Io ho fatto 40 a un tizio Raga credo sia l'ultimo vivo eh 40 di vita Morri di zona Morri di zona 5 kill totali Ma stiamo scherzando ragazzi No allora Cioè prendersi sta montagna Poi la fortuna di stare in zona è stato bellissimo Stiamo scherzando Ce l'abbiamo fatta Erano pochi Anche io ho fatto no La investo perché è questo l'endgame Bisogna finirla Non ci credo Bellissimo Non ci credo La montagna così Quattro torrette E noi che prevedevamo Tre a testa Quattro a testa Non abbiamo usato neanche granate Nulla Quindi è solo torrette Purissima Pura al 100% Io avevo altre cose Ma non ho usato nulla Nulla Wow Una delle challenge più belle Che abbiamo mai vinto Fichissimo Fichissimo Davvero alla grande